Ricordati di cliccare su mi piace, iscriviti e attiva la campanella. Quarto grado, è stato uno tra i primi a lanciare la notizia della morte di Matteo Messina Denaro. In un post su Twitter scritto da Quarto Grado, leggiamo. Matteo Messina Denaro sarebbe morto. Non è ancora arrivata la conferma ufficiale, ma vi aggiorneremo nel corso della puntata. Questo è quanto scrive la redazione di Quarto Grado. Siamo andati quindi a fare subito una verifica e una ricerca su Google. Ed ecco che spunta un articolo del sito La Repubblica. Il titolo anche qui è Il boss Matteo Messina Denaro è morto nell'ospedale dell'Aquila. Aprendo questo articolo, ecco che compare la scritta pagina non trovata. L'articolo è stato creato, Google l'ha indicizzato e poi è stato rimosso, ma attualmente tra le ricerche Google è ancora presente. La data di pubblicazione è del 22 settembre. Ma allora il boss è vivo o morto? L'ultima informazione verificata che abbiamo è quella secondo la quale, in otto mesi, le condizioni di salute del padrino di Castelvetrano sono peggiorate progressivamente fino a precipitare ieri sera, quando i medici dell'ospedale dell'Aquila che l'hanno in cura hanno dichiarato il coma irreversibile, rendendo noto ai suoi legali che non avrebbero continuato ad alimentare il paziente che aveva espressamente chiesto di non essere rianimato. Attualmente, la figlia si trova al suo capezzale. Nel testamento biologico ha chiesto espressamente di evitare l'accanimento terapeutico. Pertanto non è molto chiaro da dove sia partita la notizia della sua morte, ma sicuramente ha ancora poche ore di vita. Grazie per la visione, ricordati di iscriverti al canale e di attivare la campanella.